O il maestro, sì. Presentiamo il prossimo campione in gara, la chiami tu? Sì, Gerardina Trovato! Di Sinatra è trovato... Jackie e Vampiri. Dirige l'orchestra... Margherita Gracic. Canta, Gerardina Trovato! Una vita normale, la mattina col sole, non l'avevo fatta mai. Mi svegliavo la notte come ciechi e vampiri, trasversione, solo routine. Stavo sempre uno schifo, con la gente sbagliata, in un mondo che nel mondo non c'è. E col tempo anche i sogni si fanno i bagagli, e un bel giorno non li cerchi più. Ma chi sei io? Ma chi sei io? Specchio specchio delle mie brame, cosa vuoi, cosa vuoi? Sono la frega di Biancaneve, dimmi che, dimmi che, non tornerò a me come l'ho prima, dimmelo perché. Perché voglio di nuovo trovare la strada che tu avevi scelto per me. Ci vorrebbe una storia veramente importante, che cancella tutto quanto così. Ma più cerchi qualcosa, e più non trovi niente, ma questo ormai dal tempo si sa. Ma un giorno qualunque, in un posto tremendo, vedo quello che mi piace, sei tu. Quando credevo d'aver finito, i genchi e i bambini non si sono più. Ma chi sei io? Ma chi sei io? Specchio specchio delle mie brame, cosa vuoi, cosa vuoi? Sono la frega di Biancaneve, dimmi che, dimmi che, che, non tornerò a me come l'ho prima, dimmelo perché. Perché voglio di nuovo trovare la strada che tu avevi scelto per me. Ma chi sei io? Ma chi sei io? Perché non resti anche la mattina? Te ne vai, te ne vai, mi fai tornare dove ero prima. Ma perché, ma perché, invece di giocare ancora non ti vedi il mio. Perché un cuore che fa, te può fare più luce del sole anche stando qua giù. Ma perché, ma perché, invece di giocare ancora non ti vedi il mio. Perché un cuore che fa, te può fare più luce del sole anche stando qua giù. Perché voglio di nuovo una vita un po' meno sbagliata e la voglio con te. Con te. Ditemi. Grazie. No, no, c'è l'inizio. Grazie.